Bucchi, la prima parte del ritiro immagino sia stata una fase dura della preparazione. Sicuramente questa è la parte più dura e più importante per quanto riguarda la stagione. Stiamo lavorando bene, ormai sono tre settimane che lavoriamo, ci stiamo conoscendo, ci sta creando un bel gruppo, quindi siamo contenti di quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Ecco, guardando le prime amichevoli concetti, li state digerendo, ovviamente poi chiaramente c'è il passaggio sbagliato, c'è la sovrapposizione sbagliata, il metro in più, il metro in meno, però rientra nella normalità. State assorbendo dei precisi concetti tattici del mister? Sì, hai detto bene tu, dai, i meccanismi del mister sono dei meccanismi da metabolizzare bene, perché comunque sia sono movimenti sempre disincronizzati, quindi non è anche facile. Noi stiamo cercando di, in questi giorni che lavoriamo, cerchiamo di mettercela tutta per acquisire il prima possibile. Devo dire che qualcosa stiamo riuscendo a tirar fuori, siamo contenti, speriamo di migliorare giorno dopo giorno, perché più si migliora e più si può fare bene in campo. Tra le dichiarazioni di Cappellaccio abbiamo sentito troppo facile difendersi solamente, fare la fase difensiva, il complicato, l'aspetto complicato è fare quella offensiva. Sicuramente quando devi cercare di far gol non è mai facile, però dobbiamo essere bravi, io penso che una squadra brava deve essere quella che riesce a avere in tutte le frazioni di gioco un giusto equilibrio, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Ci lavoriamo tutti i giorni con il mister e come ho detto prima, speriamo di riuscire a trovare quei sincronismi giusti per l'inizio del campionato. Ci sono delle gerarchie nell'attacco rosso-blu, diciamo che tu levi il posto a qualcuno. Ma guarda, gerarchie non penso, perché comunque sia penso che siamo, questa squadra è composta in qualsiasi reparto da bravissimi giocatori, anche in avanti ce ne siamo tanti, siamo tutti abbastanza bravi, quindi sarà il campo a decidere chi andrà in campo e sono convinto che chiunque lo farà comunque farà sempre del suo meglio. Oculata, secondo te, la scelta di non schierare, almeno di non annoverare in rosa dei fuori quota in attacco? Ma queste sono cose che comunque sia, penso che riguardano un discorso del mister e della società. Noi giocatori pensiamo solo ad andare in campo e fare il nostro dovere, queste sono scelte che abbiamo fatto il direttore insieme al mister, quindi sono cose loro, diciamo. Buona la risposta per ora in fatto di abbonamenti venduti, inizia a esserci un discreto entusiasmo intorno alla squadra di calcio, vuol dire che il pubblico sta percependo un certo lavoro svolto, ora in un certo senso si aspettano anche dei risultati, che se mancano ancora dei giorni alle partite ufficiali. Questo da una parte si fa piacere, poi dovremmo essere bravi noi a cercare di creare quell'entusiasmo per far sì che la gente si possa avvicinare sempre di più. Ho detto prima, noi stiamo lavorando per farci trovare pronti e per cercare di fare un cambiamento importante e speriamo di riuscirci.